Mattinata carica di impegni istituzionali per il Vescovo di Lecce, Monsignor Domenico D'Ambrosio, che ha iniziato il suo tour da Palazzo dei Celestini per poi spostarsi a Carafa, per lo scambio di auguri con i padroni di casa. Un'occasione utile per diffondere non solo un messaggio di pace, ma anche per lanciare un monito. Aumentano i nuovi poveri, gli insospettabili, quelli in giacca e cravatta, che chiedono un piatto caldo alla Caritas. Per questo Monsignor D'Ambrosio è tornato a rilanciare il percorso di cooperazione istituzionale avviato da tempo, sia con la provincia che col comune di Lecce, per essere al fianco dei poveri senza umiliarli. A Palazzo Carafa D'Ambrosio ha incontrato il sindaco Paolo Perrone, il presidente del Consiglio Alfredo Pagliaro e alcuni assessori. Il rapporto tra la città di Lecce e la chiesa è un rapporto millenario, diciamo. È una città la nostra dove il senso della fede è molto profondo e si mescola con il senso proprio di appartenenza a questa comunità. Con l'Arcivesco abbiamo avuto modo di scambiarci gli auguri di Natale e fare un punto della situazione sulle attività che abbiamo in comune, soprattutto sulle attività di lotta al disagio e alla povertà.